riferite alla necessità della mobilità collettiva e quindi di spostare verso una mobilità alternativa trasferita principalmente sul vettore elettrico e quindi anche in questo caso su Rettaglia, lei faceva l'esempio della metropolitana. Come mai però continuamente tutte le agenzie dei trasporti stanno facendo bandi per l'acquisizione di autobus Euro 5, Euro 6 a gasolio? Cioè se il Ministero ha delle linee di indirizzo ben chiare, come mi sembra che in qualche modo le ha espresse poc'anzi, forse dovremmo cercare di rendere operative queste linee di indirizzo anche verso quelle società dei trasporti in maniera tale da fare un'unica politica e non fare una politica a livello nazionale basata su dei, in qualche modo, degli ideata e poi di fatto invece sull'acquisto reale vediamo che, ahimè, si va sempre sull'acquisto di bus a gasolio Euro 5, Euro 6 e nessun tipo di iniziativa parallela viene messa in atto. Concordo e chiudo con la collega che mi ha preceduto riferendomi al fatto che, ad esempio, esemplifico, nel Gran Premio di vetture di Formula 1 solo elettriche non c'è un team italiano. Questo rappresenta di fatto, secondo me, la fotografia, che noi siamo in ritardissimo su questa tipologia di sistema e siamo, soprattutto, anni luce, lontani da quella che è una politica di trasporti trasferita sul vettore elettrico. Le ricordo, chiudendo, che anche nel settore navale la Norvegia sta facendo un piano di trasporti navale elettrico addirittura. Hanno fatto anche dei traghetti sperimentali elettrico, non è solo a GNL, c'è una parte che riguarda invece soltanto il vettore elettrico dei trasporti navali. E lì però si sviluppa la ricerca, lì sono i piani sostanziali per rilanciare un paese. Noi credo che stiamo ancora discutendo se eventualmente mettere o meno, installare i filtri per abbassamento dei quantitativi di zolfo emessi ai cammini nelle nostre navi. Cioè, la politica credo che spesso dovrebbe dare degli indirizzi un po' più concreti e reali, invece però realmente noi troviamo nei bandi e in qualsiasi azione politica concreta purtroppo una distanza abissale da questa idea.